Salve a tutti sono il professor Mondaini, insegno a Catanzaro e lavoro tra Roma e Firenze. Oggi ho avuto il piacere di operare insieme al professor Gabriele Antonini che oltre a essere un amico è sicuramente l'eccellenza in campo di chirurgia protesica. La tecnica da lui eseguita è una tecnica che chiaramente riduce tantissimi tempi chirurgici, quindi con un grande vantaggio per il paziente. L'accesso pubblico sicuramente anche se sulla letteratura ci sono dati contrastanti però è sicuramente vincente e credo che veramente sia un grandissimo chirurgo dove tutti quelli che fanno chirurgia protesica non possono che imparare. Grazie